Buongiorno, siamo a Coral Gable, nel Coral Gable Hospital vicino Miami, il 7 di marzo del 2018. Abbiamo l'onore per l'ennesima volta di essere qui in sala operatoria con il nostro amico, ma il nostro maestro soprattutto, il professor Paul Perito. Con lui abbiamo messo a punto la tecnica mini-invasiva di impianto di protesi, ma quando io parlo di impianto di protesi non parlo di un impianto con un'incisione infrapubblica, parlo di una tecnica con dei passaggi codificati, con dei movimenti che permettono di impiantare la protesi in 15 minuti senza rischi e con una soddisfazione incredibile in termini di dolore e di disconforto del paziente eccezionali, cosa che non avveniva facendo l'impianto penoscrotale. La cosa importante è che il paziente può tranquillamente ricominciare la propria attività sessuale, addirittura un paziente dieci giorni fa in Italia mi ha detto che dopo dieci giorni è stato un pochino avventato, dopo dieci giorni ha avuto il suo primo rapporto, comunque il paziente non avverte dolore ma può soprattutto trovare facilmente all'interno della borsa scrotale la pompa perché non c'è la presenza di ematoma e questa cosa permette una riabilitazione molto molto rapida e veloce. Passo la parola al nostro amico Paul Perito, è sempre un piacere essere qui con lui per parlare appunto di questo tipo di procedura e credo che lui abbia gli stessi riscontri che abbiamo noi. I know my last name is Perito, and I should speak Italian, I'm ashamed to say I don't, but hopefully Rico will translate this for me. I'm honored to have my good friend Gabriele here today, he's number one in Italy, soon to be number one in Spain, soon to be number one in Europe and it is kind of unfair to talk about approaches with somebody who loves this approach as much as the two of us but there is no doubt and I did understand enough of what Gabriele said to reiterate the fact that when you don't have an incision on your scrotum you don't have an obstacle to rehabilitation. Gabriele had a patient, I don't know if he said it, a week or two ago where within 12 days, it must have been over two weeks, within 12 days, he was able to have intercourse and that's what our goal is, to get you back to your normal life. So, when it comes to approaches and on the internet you'll see a lot of different things regarding the three approaches, really keep in mind the fact that if it's done well, in a year they're all going to be the same but that first immediate postoperative period and that rehabilitative period where you're trying to get back to your normal life is made so much easier when there is not an incision on the scrotum. So, today we've already done four, we've got a few more cases to go and I can't tell you how honored I am to have Professor Antonini down here for us to work together again. So, I hope to see you guys soon. Thank you very much Professor Perito. We are always here. I would like to live here. If you are a guest, you will be here for always. Thank you and a greeting to all Italians friends. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.